Ciao a tutti, bellissimo vedere tantissimi vecchi amici e anche, spero, nuovi. Allora, partiamo un attimo con il nostro talk. Allora, di cosa parleremo oggi? I plugin. Perché un plugin deve essere estendibile? La nostra filosofia comunque di software libero, noi siamo basati comunque sulla GPL, su una licenza che ci permette un certo tipo di libertà, quindi un plugin che è estendibile, diciamo, rispecchia anche praticamente questa filosofia. Questo come si fa? Tramite due concetti che sono quello dell'action e del filter. E poi vedremo anche comunque molta, molta, molta pratica. Io sono Matteo, come ha già detto Stefano, sono uno sviluppatore principalmente back-end, e da circa un annetto sto cercando di trasferire plugin che ho fatto in giro per clienti, per progetti e spostarli sul repo ufficiale. Mi considero un open source evangelist, cioè nel senso che mi piace rompere le scattole a colleghi superiori, eccetera, ma perché non adottiamo questa soluzione rispetto a un'altra, perché filozoficamente è più incline alla condivisione, alla comunità, eccetera. Quindi partiamo dall'inizio della nostra storia. È arrivato da me un ragazzo che aveva bisogno di aggiungere una nuova funzionalità nel suo plugin, cioè nel suo sito internet. Il sito internet era però già in produzione, aveva già un plugin che gli piaceva tantissimo, era perfetto, però gli mancava questo piccolo dettaglio. L'azienda che aveva sviluppato questo plugin non era interessata a creare questa funzionalità. Quindi, come ho proceduto? Prima di tutto ho contatto la vecchia azienda, perché a volte capita che un cliente ci fa una richiesta, non è considerata dal, cioè non c'è nel core di questo plugin, però l'azienda mi risponde, ah, guarda, sei la cinquantesima persona che ce la chiede, mi sa che la mettiamo nella prossima release. Purtroppo questa funzionalità non c'era. non c'era, non era neanche prevista nell'arco di due o tre anni. Quindi ho detto, ok, cosa posso fare? Lavoriamo in GPL, quindi il codice sorgente del plugin, noi possiamo leggercelo, studiarcelo e decidere un po' cosa fare. Quindi abbiamo studiato, ho visto che il plugin era fatto molto molto bene, e quindi ribocchiamoci le mani, studiamo cosa fare e poi scriviamo il nostro codice. Io sono stato fortunato perché questo plugin era stato fatto a regola d'arte, con i vari hook, con i vari action, i filter, quello che ci permette a noi di poter estendere e poter evolvere il nostro plugin. Io sono stato fortunato, non tutti i plugin lo permettono, ma questo talk ci fa vedere un attimo come permettere, cioè dopo che abbiamo pubblicato un plugin, come permettere a tutti gli altri di aggiungerci il loro, la loro necessità. Prima di tutto, perché un plugin deve essere estendibile? Cosa succede? Cosa sarebbe successo se il nostro plugin non nasce per essere estendibile? Può, il programmatore che viene dopo, può dire ok, faccio un fork del tuo progetto. Quindi, creare un progetto parallelo è creare concorrenza che magari non serve, perché comunque, se abbiamo una cosa in comune noi due, c'è bisogno di un'altra funzionalità perché dividerci. Ti do la possibilità di crearti un tuo plugin che magari aggiunge quella funzionalità. Un esempio magari più semplice, immaginatevi WooCommerce. WooCommerce non fa tutto, però, se noi cerchiamo sul repo di WordPress for WooCommerce, troviamo tanti piccoli plugin che aggiungono quelle singole funzionalità che possono servire, perché WooCommerce è stato sviluppato con queste metodologie. E poi, come dico sempre, stiamo lavorando in open source. Quindi, questa slide cerco di infilarcelo ovunque, cioè l'elenco delle quattro libertà principali del software libero, che sono anche sbagliate perché di solito iniziano con 1, non iniziano con 1, 2, 3, 4, ma con 0, 1, 2, 3, come i nostri array. Quindi, un software per definirsi libero deve rispettare queste quattro leggi. Quindi, possibilità di utilizzarlo per lo scopo che vogliamo. L'esempio più comodo è magari WooCommerce, che quante persone lo utilizzano non per vendere prodotti, ma l'hanno modificato leggermente e diventa un bel catalogo. È l'esempio più semplice. Possibilità di studiarlo. Lavoriamo in PHP, quindi, a meno che qualcuno non offuschi il suo codice, noi possiamo prendere, leggerlo riga per riga, capire riga per riga cosa sta succedendo e ci portiamo a casa, oltre alla conoscenza, anche una bella esperienza. Capiamo, vediamo la mente di un altro programmatore che ha esperienza, capiamo un attimo cosa ha fatto e magari tra qualche anno quell'idea possiamo sfruttarla per un altro progetto. La possibilità di modificarlo. è di ricondividerlo con le nostre modifiche. Ovviamente, se noi lo modifichiamo e lo condividiamo, c'è il vincolo della GPL che lo dobbiamo ricondividere con la stessa licenza. O con una licenza, diciamo, della stessa famiglia. Ma se noi facciamo un plug-in che non è fatto per essere estendibile, diciamo, sì, ok, con la GPL, però non stiamo invogliando, non stiamo aiutando chi c'è dopo a fare quel lavoro. Noi, ok, la persona che arriva dopo troverà il nostro plug-in, però si ritroverà scomodo, si ritroverà svantaggiato, quindi dobbiamo cercare di rendere la cosa più accessibile, più pulita, più comoda per tutti. Ok, per entrare un po' più nel dettaglio, ho buttato su GitHub un piccolo esempio chiamato esempio per WordCamp Verona 2023. Quindi è un piccolo plug-in che è molto, molto classico. Un plug-in, come sapete tutti, creiamo la cartella, dentro la cartella plug-in creiamo una cartella chiamata WordCamp Verona 23, il nome del nostro plug-in, e poi ci inseriamo nel nostro file PHP la classica identazione, in cui c'è il nome, la descrizione e vari dati. Io ho fatto un esempio abbastanza semplice. Nell'ultima parte del leader uscire un messaggio di testo in cui c'è scritto, in cui viene presentato un talk dei WordCamp Verona. Quindi, due funzioni semplici, un getTalk, un getSpeaker. e poi una funzione che prende un talk e ci prepara la stringa per essere mostrata. Questo, diciamo, quindi ho detto che nel led del nostro tema chiama questa funzione e gli faccio stampare il mio content. Quindi, la scritta, non perderti poi quel testo che abbiamo fatto prima. non perderti il nome di un talk a caso e poi che ti viene stampato comodamente nel nostro reader. Un plugin funziona, semplice e comodissimo. Ma una persona gli piace il mio plugin, però ha detto eh, sai cos'è? Io però nel mio sito vorrei che oltre ad avere il titolo del nome dello speaker o il nome e il nome del suo talk, io vorrei anche che le persone che visitano il sito sappiano anche dell'esistenza dell'after party. Perché secondo me è il metodo di networking più bello che piace. quindi noi dobbiamo modificare in questo caso il nostro testo. Cosa possiamo fare? Se vedete un attimo la differenza tra questo talk e questa slide con questo codice e l'altra, io ho aggiunto qua l'apply filters. Questo significa che in questo punto esatto del mio codice il mio la variabile in cui c'è il testo bello, esploso, in cui c'è scritto viene presentato il talk può subire modifiche. Quindi in questo caso se notate bene qua c'è il nome del mio hook del mio filtro scusate il mio filtro viene chiamato qua e noi stiamo dicendo che quando invochiamo questo add filter con questo con questa label chiama questa funzione. qua semplicemente sto prendendo il testo che avevo detto prima e con scritto senza dimenticare l'after party quindi il normale funzionamento del nostro plugin va avanti e ci inserisce in più questo pezzo. Questo pezzettino noi possiamo creare un plugin secondario possiamo prenderlo e metterlo nel function del nostro tema per esempio o ma sì principalmente sono questi due punti in cui sarebbe l'ideale metterlo. Qui ho appena visto un filtro che lavora quindi su una variabile la nostra variabile che può essere modificata ristampata e ripercorrerà il suo ciclo di vita. esattamente quindi quindi riassumendo quello che abbiamo fatto è semplicemente aggiungere questo il content apposto di funzione nello stesso modo invoca l'apply filters poi cosa ne pensiamo se posso dibuttare subito il nome del talk non perdere eccetera mettiamo un testo prima e un testo dopo per esempio ho dimenticato già come funziona il telecomando lo sto usando adesso però per poter inserire una funzione prima e dopo noi possiamo utilizzare i do action come avete visto per esempio il do action l'ho messo poco prima del leccio quindi dalla stampa su schermo nel mio testo cosa succede? il do action funziona in questo modo il do action è un'azione che succede noi possiamo farci qualsiasi cosa con il do action quindi in un certo momento del nostro codice c'è il do action se c'è qualcosa associato a questa label fuciverò una before echo e after echo succede qualcosa noi che sviluppiamo il tema originale non ce ne deve neanche interessare noi diamo libertà agli altri persone in quel punto di fare quello che servono di solito si si cerca di metterlo a fianco a una stampa su schermo a un'associazione di variabili eccetera però più le regole sono non regole le best practice dovrebbero essere queste quindi io per esempio ho deciso che nel before echo quindi poco prima del mio messaggio voglio che venga scritto benvenuti a questo workup workup e quindi lo possiamo fare tranquillamente come ho detto prima mettendolo in un altro plugin mettendolo nel nostro function questa scritta prima del del leccio che abbiamo visto prima ci stamperà benvenuti a questo workup però noi possiamo metterci lì dentro anche tantissima logica io per esempio lì ho passato una variabile qua semplicemente io sto dicendo se sei prima di mezzogiorno questo talk è di mattina quindi tini sotto controllo l'orologio se dopo il pomeriggio hai ancora qualche qualche ora di di tempo per per godertelo quindi quindi noi dentro i nostri vari due action possiamo giocarcela un po' come vogliamo possiamo estenderli come vogliamo all'ennesima potenza e se fosse il contrario ci fosse un altro plugin cioè facciamo finta che noi arriviamo per terzi quindi una persona ha già creato il suo plugin con quel action una seconda persona in un plugin bellissimo che ci faccia delle funzionalità ma una proprio non ci serve non ci interessa e ci ha messo un action che noi vogliamo proprio rimuovere in quel caso non ci è piaciuto l'after che ci metteva troppo ansia perché parlava di il talk di mattina troppo vicino possiamo fare direttamente un remove action questo va arriva e elimina dal nostro dal funzionamento di del plugin quell'indicazione quindi non avremo più il pezzettino che ci controlla l'orario facciamo un piccolo riassunto noi abbiamo utilizzato i filters i filters si utilizzano per manipolare una variabile il dato che noi abbiamo in un determinato punto di solito lo si utilizza prima di una segnazione prima di una stampa o simili quindi aggiungiamo il filtro gli diamo il parametro e poi chi arriverà dopo potrà agire interamente in quel punto e fare le sue dovute le sue dovute modifiche action invece è il contrario l'action tu ti stai infilando in un punto non c'è bisogno di passaggio di parametri o altro tu stai dicendo ci deve essere un'azione in questo momento quindi una persona può prendere delle azioni e metterle in quel punto che possono essere di svariate entità la stessa cosa vale anche per remove c'è un'azione che non ci piace che non vogliamo avere con remove action possiamo rimuoverla esempi ne volete? qua ogni tanto cito la mia regione che ogni tanto manca prendiamo un po' di esempi che di tutti i giorni che utilizzano questo ecco io parlo spesso di WooCommerce ma perché WooCommerce diciamo che è un catalogo infinito di casistiche di filtri o di action puoi modificare sia il funzionamento generale dell'ordine ma puoi modificarti semplicemente con un semplice action persino il contenuto di un menu con due righe di codice quindi comodissimo qua ho preso un po' di esempio di plugin che secondo me sono che tutti quanti conosciamo e ho preso un esempio a caso per esempio per WooCommerce ho messo il before card table quando c'è il stampiamo a schermo il rassunto del nostro carrello noi possiamo agire subito prima e fare le dovute modifiche contact form 7 far succedere qualcosa poco prima di di mandare la mail del del cliente cioè la mail del contatto faccio un esempio dopo la GDPR c'è sempre stata la necessità di aver tracciate tutte le mail che arrivano per esempio si sono agganciati tramite contact form per avere un log di tutte le mail che sono uscite o i host SEO in cui prima di stampare il nostro EAD la parte di intestazione far fare qualcosa altro stessa cosa possiamo vederla anche per i filtri per esempio quando viene stampata la valuta quando viene stampata la valuta noi possiamo aggiungerci possiamo manipolarcelo un po' come vogliamo se vogliamo il simbolo dell'euro se vogliamo essere scritto euro se vogliamo la E per altri problemi se a posto della E vogliamo mettercelo la E vogliamo mettere dentro uno spam per metterci qualche dato o qualche valore magari più accessibile i host SEO invece fa questa cosa c'è il filtro dentro la description la meta description noi possiamo lì manipolarcela come vogliamo contact form 7 poco prima della stampa noi abbiamo un bel array con tutti i campi che deve stamparsi e noi possiamo manipolarla in questo in questo punto quando una persona si mette a scrivere delle slide è anche diciamo un momento di retrospettiva leggi bene tutto quello che hai fatto leggi bene però poi ti viene in mente a cavolo sono stato in corrente non l'ho messo nel mio plugin quindi è anche una scusa per fare una retrospettiva per dire un attimo dove ho sbagliato e quindi anche una scusa per pubblicare e migliorare il proprio lavoro io uno degli ultimi plugin che ho fatto era un plugin che semplicemente aggiungeva il basic authentication nella pagina di admin e c'era questa funzione in cui io per esempio validavo le credenziali che avevo messo e poi se erano sbagliate lanciavo l'errore di 401 bello funziona però secondo la mia logica potrebbe esserci qualcosa di un po' più un po' più interessante uno di questi è metterci un action quest'action una persona per esempio che non che gli piace il mio plugin però non abbastanza potrebbe dire sì ok una persona sbaglia l'autenticazione però io voglio che me la loghi oppure voglio che mi arrivi un'email di avviso vorrei che venisse salvato in determinato modo quindi ho ritenuto interessante metterci qua quest'action in modo tale che la persona potesse magari nel suo codice estendere questo è farsi avvisare come voleva un altro punto per esempio in cui ci ho riflettuto un po' è io avevo un bel file di log in cui e poi salvavo questi dati nel database nelle option del database io ho detto ok però magari il dato che io sto salvando ha bisogno di modifiche quindi proviamo a metterci un apply filters così se il logs è un array no un oggetto una persona va si manipola l'oggetto come vuole e così ce l'ha salvato nel modo in cui lui preferisce quindi il talk è finito ma vorrei dirvi grazie ma non è questa la slide non ho lo stesso tono di voce di Aragorn e il signore degli anelli quindi non è questo il giorno dato che si parla di open source comunque ci sono persone che hanno fatto dei talk prima di me che hanno dato comunque diversi spunti diversi idee eccetera uno di questi è Francesco che nel 2021 ha fatto un talk in cui si parla proprio di cosa sono i child plug-in quindi nel dettaglio prendere le regole degli action dei filter eccetera e sfruttarli per creare dei plug-in ulteriori quindi grazie a tutti voi se ci sono domande ci sarà Simone questi sono alcuni dei miei contatti grazie mille domanda qual è il modo migliore per trovare i vari ganci possibili messi a disposizione dei vari plug-in perché per esempio io banalmente quando ho bisogno di agganciarmi a qualche funzionalità vado a vedere la funzionalità che viene utilizzata al plug-in vado a leggermi la sua dichiarazione e nella dichiarazione trovo i vari do action apply filter se quant'altro c'è un altro modo più semplice più bello più facile non saprei io uso sempre il metodo più grezzo che è vado su visual studio guardo un attimo pulsante sul sul metodo dichiarazione esatto e leggi esatto per ora non utilizzo ancora alcuna scorciatoia tipo qualche estensione che automaticamente mi legge sarebbe stata interessante query monitor sì è vero però query monitor non ti permette secondo me di leggere del plug-in o sì ah ok della pagina sì sì in base alla pagina sì sì però a volte sì quello è vero a volte però non hai la pagina che va a lanciare quella la funzionalità là come sempre Dedo ci salva la vita ciao grazie mille e volevo chiederti tu gli action e i filter di cui hai parlato io li posso aggiungere ovunque in un tema anche o in un plug-in ma nel caso specifico come dicevi prima che voglio creare un plug-in per estendere solo una funzionalità proprio di uno specifico plug-in penso che non so a contact form 7 voglio aggiungere una funzionalità faccio un plug-in specifico ho delle intestazioni nei commenti come nei temi per correlare due plug-in o non mi interessa e magari faccio solo una condizione if function exist allora faccio cose o altrimenti il plug-in non fa nulla il secondo metodo perché non utilizza lo stesso modo dei temi sono proprio due storie ben separate quindi sì controllo se esiste la funzione se il plug-in è attivato un bel leaf che ci fa tutti questi controlli e poi scrive il nostro testo se però vogliamo pubblicarlo nel repository ufficiale di wordpress lì c'è una condizione che è una questione di di brand noi non possiamo utilizzare contact form 7 bisogna utilizzare un determinato nomenclatura se vogliamo citare nel titolo e nella url quel nome che è già prenotato se non sbaglio c'è soltanto un modo in cui alla fine del titolo devi mettere for contact form 7 si si hanno obbligato a scrivere for il nome del plug-in altri modi mi pare che non ce ne sono domande ancora no posso farne una io ma non a te al pubblico in realtà ah ok quanti di voi si considerano junior developer sulle mani senza paura e tanto non vi mangio ho promesso ok quanti mid developer ok senior developer ok quanti hanno trovato questo talk utile indipendentemente dal loro livello ok perfetto questa è la dimostrazione che è un talk ben fatto e che ci voleva io se avessi seguito questo talk 3 o 4 anni fa avrei risparmiato molta fatica anch'io bene se non ci sono altre domande perché abbiamo ancora due minuti domanda ah due quando aggiungiamo del look nei nostri plug-in qual è il modo migliore per documentarli per risolvere il problema che diceva prima lui giustamente fare in modo che l'utente li possa trovare ok c'è una best practice che sinceramente in questo momento non mi viene un po' per l'attenzione però adesso non mi viene in mente però comunque il commento dovrebbe avere una sintassi precisa per dirlo come? con il php.do esatto ma tu lo metti anche nell'intestazione della funzione mi diceva si lo metto subito prima quindi comunque lo riporti anche prima esatto grazie a memoria mi sembra che debba essere comunque documentata anche nel prima di ogni filtro e di ogni hook debba essere messo comunque un commento sulla mano chi era? ok non ti vedete ciao grazie io ho una domanda esiste un modo per intercettare un action di un magari di un plug-in che va ad estendere un altro plug-in e spostarlo in un'altra posizione magari questo plug-in va a piazzare questa questo action all'interno magari viene in mente un gateway bancario che va a piazzare la propria scritta all'interno del carto di WooCommerce ok ma io non lo voglio lì lo voglio piazzare in un'altra parte c'è un modo per intercettarlo e spostarlo? lo rimuovo si lo rimuovo fai il remove action l'unica è rimuoverlo e ricrearlo per il caso mi sa che è l'unica grazie 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 grazie